Un momento difficile a livello nazionale, a livello locale per il mondo del calcio, a livello locale l'Aquila Calcio, l'inchiesta del calcio scommesse che anche se non riguarda direttamente la società sicuramente ha creato un po' di sfiducia nei tifosi. Come si può tornare al vero spirito dello sport indipendentemente poi dal calcio? Il calcio ha sempre vissuto momenti di grande difficoltà, negli ultimi tempi forse anche attraverso i mezzi di comunicazione, la possibilità di comunicare queste difficoltà, questi scandali sono quasi all'ordine del giorno. Bisogna fare una distinzione a mio avviso, soprattutto negli ultimi episodi tra calcio scommesse e qualcuno che evidentemente ha avuto voglia di acquistare qualche partita per poter acquisire un risultato più sicuro. Sicuramente siamo sempre nel campo della frode sportiva, si tradisce la fiducia dei tifosi. Come tornare? Io credo che bisognerebbe valorizzare molto di più quelli che sono i valori dello sport, recuperare forse un senso di appartenenza, uno spirito, l'orgoglio di appartenenza ad una determinata società, ad un territorio, altrimenti si corre il rischio di valorizzare sempre di più quelle che sono le dimensioni economiche e quindi il rischio reale è che qualcuno cerchi sempre delle scorciatoie e quindi gli scandali sono all'ordine del giorno.